Saldiamo la Madonna, saldiamo! Soccorritrice, tutti ti invocano, soccorritrice, questo bel titolo e mi disse Don Vincenzo, il prossimo anno questa celebrazione la voglio in Arezio e signor Sindaco noi abbiamo accolto l'invito ed è il priore e comincia a plasmarsi, guardatevi bene, quando c'è il sacrificio, vedete come ho fatto io che forse ci costa molto, usaci, lo Spirito Santo ci deve usare per fare il bene, ci deve usare anche a fare... Soccorritrice, tutti i nostri amici Alleluia 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 del Comune di Capitoli, Assessore Cacciatori, e in rappresentanza del Comune di Parabita, il Vice Sindaco, il Signor Cacciatori. Non è senza emozione che a nome dell'intera comunità di Alizio, rivolgo da voi tutti un valoroso benvenuto e un sentito ringraziamento per essere intervenuti così numerosi. Siamo qui questa sera, al cospetto del nostro glorioso santuario della Madonna della Stunta, per condividere il messaggio di fraternità e di calità cristiana che il nostro piccolo comune si propaga da 340 anni. È infatti nel 1670 che si data la fondazione della Compaternita, qui nel piccolo bordo di case nata intorno a questa chiesa. O Signore, quanto è irabile il Tuo nome su tutta la terra. O Signore, quanto è irabile il Tuo nome su tutta la terra. Quando vedo i Tuoi cieli, opera della Tua vita, la luna scogliesco dov'è carità e amore. O Signore, quanto è irabile il Tuo nome su tutta la terra. O Signore, quanto è irabile il Tuo nome su tutta la terra. O Signore, quanto è irabile il Tuo nome su tutta la terra. O Signore, quanto è irabile il Tuo nome su tutta la terra. O Signore, quanto è irabile il Tuo nome su tutta la terra. O Signore, quanto è irabile il Tuo nome su tutta la terra. O Signore, quanto è irabile il Tuo nome su tutta la terra. Concedi Dio, il tuo regno, la tua volontà, moriscevo così in terra, lascia oggi il nostro pane e togliamo, e vede a noi i nostri detti, come noi diventiamo i nostri dettori, e non ci si vede in estrazione, e non è libera la sua mamma. Libera il suo Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la deata speranza, e venga il nostro saluto. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. La tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni turbamento, la tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni turbamento, la tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni turbamento, la tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni turbamento, asserciano in certezza. Allora, io lo dico adesso perché voi, tante parole, insomma, devo ringraziare il Sindaco per l'accoglienza, per tutto ciò che avete fatto, e tutti coloro che hanno collaborato col parroco per questa bellissima celebrazione. e itinerante, ogni anno scegliamo, quest'anno si sono fatti avanti loro e ci hanno accorto con questa bellezza, con questa, e poi è tutto un mondo qui davvero molto molto bello. E ringrazio di cuore a lui che ci hanno un applauso, a lui è al parlo di questa la città. Sono il Presidente della provincia, che è il nostro diocesano, una figura bella che guardiamo con grande stima e grande affetto, quindi ancora vi rivolgiamo tanti auguri e tanto buon lavoro per la nostra terra, per la promozione di questo. Quindi grazie. Il Presidente Sergi, che da conto che era uggento, ci siamo conosciuti e poi davvero nella prefettura ci segue e quindi l'onore della sua presenza, la li accettiamo con grande e con grande gioia. Grazie per l'attenzione. I rappresentanti dei sindaci, che l'hanno citato prima e quindi anche loro e con tutte le altre autorità, facciamo un applauso. Grazie per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.